La nostra sorpresa della serata, le nostre bellissime majorette capitanate dalla bravissima signorina Roberta Migane. Il gruppo, formandosi negli anni 90, è da sempre orgoglio della nostra associazione. Iniziano la loro esibizione con due marce, la posta di Washington e Stelle Strisce. Accogliamone con un caloroso applauso. Accogliamone. 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 Grazie a tutti. 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 Lord of the Dance. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.